Il trasporto pubblico, come sappiamo, in Calabria è stata sempre una nota dolente. Vuoi per l'orografia particolare, vuoi per la carenza di infrastrutture dedicate alla mobilità. Ora, in un momento particolare in cui quest'area, si stanno da fare, tutti i sindaci stanno lavorando per rendere più appetibile questo territorio, ci vediamo costretti a subire una nuova difficoltà della tratta Soveria Manelli-Catanzaro, per via, come sappiamo, delle difficoltà della Galleria Madonna di Porto-Giomigliano. È un fatto di sicurezza e siamo convinti che vada affrontato. Però è giusto conoscere da parte nostra il destino che potrà avere questa struttura importantissima, come ripeto, per il territorio dal punto di vista economico, sociale, culturale e via dicendo. Noi siamo convinti che la riunione di oggi servirà a fare il punto e a tenere viva l'attenzione da questo punto di vista. Siamo sicuri che ci saranno gli strumenti necessari a risolvere questo problema e siamo assolutamente contenti nell'apprendere che è stato già fatto un piano di fattibilità per la ristrutturazione di questo tratto ferroviario così importante per il nostro territorio. Grazie. 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 Grazie.